Nessun governo ha mai voluto discutere sull'introduzione della stazione di scopo che è stata anche più volte chiesta e sollecitata, poi in realtà sarebbe già pronto il terreno perché è già stato in parte applicato, tra l'altro ci sono state altre destinazioni, per esempio c'era un prelievo fisso sulle scommesse da destinare al CONI e per qualche anno alla Solaunire che gestiva l'Ippica, poi sono state abbandonate, ma una cosa, una riflessione che mi è da fare, lei parlava prima di una cosa importante secondo me, di guardare anche l'Europa e guardare quello che fa il resto del mondo, questa è una riflessione, io a volte rimango, poi con la seratrice abbiamo fatto anche privatamente queste riflessioni, a volte rimango sconcertato anche per la banalità di alcune trattazioni, ma in particolare penso, rispetto al gioco d'azzardo, si fanno mille dibattiti, se ne parla tantissimo l'abbiamo detto anche adesso, continuamente e sostanzialmente nessuno va a mai a guardare quello che succede nelle altre realtà, sono mercati più sviluppati e anche più longevi rispetto a quello italiano, penso in particolare al Regno Unito, ma anche alla Spagna dove il gioco anzi è molto molto diffuso e socialmente anche più accettato, nessuno va mai a studiare quello che succede al destro, dovrebbe farlo la politica, dovrebbero farlo le istituzioni, dovrebbero farlo un po' tutti, dovrebbe farlo l'industria, qualcuno lo fa anche per prendere come riferimento dei modelli, individuare se ci sono dei modelli, poi non è detto, magari scopriamo se siamo più bravi noi su certe cose, su altre sicuramente non lo saremo, potremmo importare dei modelli e questa è una cosa veramente imbarazzante che non venga fatta, in particolare penso rispetto alla tassazione, io mi viene in mente, non mi voglio stare ad annullare, ma secondo me è abbastanza interessante, la riforma che fece Blair rispetto al gioco pubblico, tra l'altro l'ha messa anche la sua biografia come uno dei fiore all'occhiello dei suoi interventi, tra l'altro è stato interessante perché lui quello che ha riformato semplicemente di fatto è la percezione del gioco rispetto ai cittadini britannici, lui cosa ha fatto? ha creato il meccanismo che hanno chiamato delle good causes, le buone cause, che è esattamente la tassa di scopo, io l'ho scritto su vari editoriali qualche anno fa, non so se ricordate ma quando c'è stata la vittoria, cos'era, una serie di medaglie all'ultima Olimpiade, adesso non ricordo, ho un po' a memoria, però praticamente è stato esaltato il modello dello sport britannico e della straordinaria politica del Regno Unito perché c'è un prelievo diretto che praticamente è la parte dei fondi di gioco, adesso mi ricordo la percentuale esatta, ma viene destinata, è una delle good causes, altre sono interventi sociali, insomma di vario genere, cura, anche lì si fanno molte cose, ma c'è un fondo proprio per lo sport, c'è un prelievo diretto che dal gioco, d'azzardo, dalle scommesse va allo sport, grazie a questo hanno investito moltissimo sullo sport che significa infrastrutture, sport minori, sport giovanile, eccetera, e veniva esaltato questo su tutti i giornali come modello vincente, allora io dico però magari la stessa pagina, no parlavamo del eliminare l'industria del gioco e di qua è esaltata l'industria del gioco britannica perché non siamo noi, allora basterebbe sintetizzare, poi non è detto che magari quello sia il modello inevitabilmente vincente, quello che serve l'ha detto esattamente la senatrice, cambiare la cultura e soprattutto quella delle istituzioni, ecco proprio nell'approccio, altro tema che mi viene in mente, la pubblicità, c'è un'opinione diffusa che è quella di dire eliminiamo completamente la pubblicità e sembra, devo dire, io su questo, siccome mi interrogo sempre su quelle cose, appare anche ragionevole, cioè a prima vista lo dice, vietiamo la pubblicità, uno pensa sempre a fare riferimento del tabacco, il tabacco è vietato, non si può fare più, vietiamo completamente la pubblicità su ogni mezzo, su in realtà scopriamo, c'è una raccomandazione dell'Unione Europea, tra l'altro datata 2014 quindi inizia anche a essere bella vecchiotta, è stato fatto uno studio all'euro internazionale e cosa è emerso? È emerso che la raccomandazione dell'Unione Europea dice attenzione perché la pubblicità non serve solo a promuovere e incentivare il gioco, ma serve anche e soprattutto a distinguere l'offerta di gioco legale e gioco illegale e questa è una cosa fondamentale in un settore come quello italiano in cui l'illegalità è a noi ancora oggi diffusissima. Allora pensate, ci sono centri, in particolare questo fenomeno riguarda il mercato delle scommesse, ci sono oggi per vari motivi, non sto qui a raccontare, ma in virtù di normative europee, contenziosi eccetera, operatori che operano senza titoli o centri che operano completamente illegalmente sul territorio. Ecco, se noi pensiamo di evitare completamente la pubblicità, se io per dire vado ad aprire una sala di scommesse, io concessionario legale, non posso neanche fare la pubblicità per dire sto aprendo e poi vicino a me apre uno che è illegale, praticamente abbiamo equiparato semplicemente con il divieto assoluto di pubblicità, abbiamo equiparato, praticamente andiamo a equiparare l'offerta legale, non permetti di distinguere l'offerta legale e legale, mentre oggi se non altro l'operatore illegale non può fare pubblicità perché non avrebbe accesso non essendo provvisto di concessione. Quindi anche qui qual è la soluzione migliore. Io non ho la pretesa di darla io, però io dico riflettiamoci e proviamo a sintetizzarla. Quindi la chiave della collaborazione credo che sia sicuramente vincente. Oh, volevo tornare un attimo col professore e poi prendiamo qualche domanda, se siete d'accordo. Lei prima parlava dell'esperienza di Ortos in Toscana che mi sembra un'esperienza, ho detto lei sicuramente positiva, ci ha dato anche i numeri. Tra l'altro quello è un progetto finanziato dalla regione con soldi pubblici, quindi anche qui è un altro esempio di un'altra buona pratica che abbiamo fatto, un'altra esperienza concreta. Quindi anche lì qualcosa si può fare, dei modelli ci sono. Secondo lei, ad oggi, tanto per essere concreto, visto che lanciamo una cosa, di cose ci sarebbe davvero bisogno? Almeno quali sono le priorità per provare a riformare il gioco? Tra l'altro mi veniva da ridere prima quando lei parlava giustamente di la creazione di un testo unico, di una legge quadro sul gioco. Mi veniva da ridere perché ricordo che forse è stato uno dei miei primi editoriali, era il 2009, su questa rivista perché si parlava della necessità di una legge quadro sul gioco e c'era la promessa del governo di allora di fare un testo unico sul gioco. Oggi siamo, nel 2014 se non sbaglio la legge delega approvata in Parlamento, delegava il governo a dire facciamo una legge quadro sul gioco e siamo oggi, nel 2018, a chiedere ancora la legge quadro. Comunque semmai ci arriveremo secondo lei. Almeno la mia leggina piccolina. Sono d'accordo. Quali sono secondo lei? Grazie, io ho tre punti. Uno di totale sostegno all'ipotesi del 5% per le quali ci stiamo battendo da molto, compare anche in questo testo che ormai ha 17 anni sulla scia dell'esperienza anche svizzera e cioè che effettivamente una parte andrebbe orientata in senso specifico e credo che sia possibile perché in altri paesi lo hanno fatto, quindi sono comprensibili le resistenze però alla fine poi si potrebbe fare se ci fosse la volontà politica. Il secondo punto sul tema dei trattamenti io penso che le dipendenze comportamentali, che non sono solo il gioco, ma per esempio la net addiction, la dipendenza da social, da smartphone, sono un'emergenza che non può essere certo affrontata con i mezzi tradizionali delle comunità terapeutiche o solo a livello ambulatoriale. E anche in questo caso noi abbiamo programmato come anche altri per esempio delle sette mani beat free, no? Da proporre nelle scuole, oltre alla settimana bianca andiamo a lasciare. Cosa succede se noi andiamo in un posto dove possiamo fare esercizio fisico, esplorare un fiume, un lago, fare sport, andare a un museo, un concerto di musica? Cioè che il mondo non è solo quello virtuale, esiste un mondo reale da scoprire, da godere, da condividere. Perché purtroppo io l'ho visto questa mattina con mio nipotino, volevo prepararmi un po', però lui voleva giocare e ci siamo messi lì a mettere tutti gli aeroplanini, abbiamo fatto l'aeroporto, quello che avevamo. Cioè i bambini hanno bisogno di interazione, di scoprire, di condividere. È troppo comodo mettergli il televisore a vedere quegli cartoons e idioti e noi stiamo distruggendo lo psichismo di generazioni, di nuove generazioni che diventano dipendenti da questo flusso di immagini che poi li ipnotizzano. Però bisogna attivare una cultura del gioco, del gioco sociale, partecipativo, creativo e che serve, aiuta a crescere. In questo senso noi da anni abbiamo proposto lo sviluppo di ludoteche per adulti. Cioè una società evoluta gioca. I giochi li hanno inventati i greci, i giochi olimpici e gli inglesi quando hanno creato questo grande impero e si sono trovati ricchi con del tempo disponibile hanno inventato tutti i giochi, il basket, il cricket, il football, sono tutti termini inglesi. Come descrive Armanesse nel suo romanzo, il gioco dalle perle di vetro, se l'umanità del futuro sarà robotizzata nei sistemi di produzione, le coltivazioni estensive con un aeroplano che semina, cosa farà la gente? L'Ozium avrà del tempo a disposizione sempre di più. Perché non diventi il padre dei vizi, dobbiamo creare delle occasioni di gioco. Quindi la mia proposta, anche all'industria del gioco, che sia un gioco che si trasforma, che evolve, che crea degli spazi in cui poter giocare evolutivamente. Sono stato l'altro giorno alla Bicocca Village, anche lì uno si perde fra tante cose. Quindi perché non avere dei luoghi in cui proporre una gamma ampia di giochi, che vanno da quelli virtuali, creativi, e reintrodurre l'elemento competitivo? Perché noi siamo passati da Lascio Raddoppia, io ero un ragazzino, in cui si presentava quello che era esperto di storia, di politica, di sport, a fare i tuoi, che è semplicemente il pacco setto, il pacco dell'Umbria, che è un gioco idiota e che ha dominato le orari di massima affluenza per, non so, per dieci anni, creando una mentalità del gioco d'azzardo. Cioè che la mia vita è condizionata, penso che sia il pacco numero otto, che è azzardo puro, cioè non c'è nessuna bravura, nessuna logica, nessuna costruttività. Quindi creare una cultura del gioco. Esiste qualche esperienza, io anni fa ho visto la Casa dei Giochi, era una vecchia scuola elementare chiusa, gestita da una cooperativa, e aveva giochi sociali, da Scacchi al Monopoli, adesso ce ne sono di più evoluti. Un luogo quindi dove le persone sole, anche gli extracomunitari o persone pensionati, possano passare delle ore, c'era la cooperativa che gestiva il bar, potendo un luogo di socializzazione, di incontro, di scambio, anche dove creare cultura multietnica, cercando di socializzare culture diverse, creando tessuto sociale condiviso, che potrebbe corrispondere a un progetto anche ambizioso di rilancio in una politica del gioco, che non fosse solo il gioco ad azzardo, solo il gioco con il denaro. Sul gioco al denaro, io ritengo che, parafrasando Mao Zedong, adesso non si chiama più Mao Zedong, lavorare meno, lavorare tutti, anche il gioco, invece che giocare in pochi, con le droghe pesanti, col gioco pesante, è stato fatto già un grosso progresso nel dire non più di un euro ripetibile, però voglio dire, in un'ora si possono giocare, non so se 60 o 72 euro, che è poco e tanto, nel senso che persone che stanno ore al bar, perché questo avviene, insomma in una settimana possono anche giocarsi la pensione. Quindi più che le 500 e i 300 metri, che secondo me sono un'idiozia, capisco, lontani dalle scuole, ma insomma, metterli lontano da... insomma un contenzioso, difficile da monitorare, e che poi crea situazioni di caos, eccetera. Secondo me il gioco deve rimanere gioco, cioè dobbiamo scindere il passatempo, prima c'era il flipper, dall'idea fasulla che io giocando, se sono fortunato, pago i debiti o ho un'entrata che non è dal lavoro. E quindi la soluzione è semplice, che deve essere un passatempo. Quindi un euro non è molto, però se noi lo mettiamo in una settimana di un giocatore, uno può arrivare a perdere anche delle somme. Quindi non lo so se è realistico, però ecco, mi è piaciuto anche prima poterne parlare con Crisontemi, perché c'è io che difendo i giocatori, vedo persone rovinate, però devo mettermi nei panni anche di un insieme di... che ci sono undicimila addetti al lavoro, che alcuni stanno chiudendo, bisogna capire la complessità e insieme cercare delle soluzioni, non contrapositive, perché il giocatore è come lo spacciatore della droga, perché lui fa un lavoro che è legittimato dalle leggi dello Stato, e quindi all'interno di questo contesto di diritto noi dobbiamo saperci confrontare. E quindi entrando un po' nel dettaglio di come rendere sostenibile un'attività di gioco che tuteli effettivamente le persone fragili. E quindi sono assolutamente d'accordo sul tema di rilanciare la legge, auguriamoci che il nuovo governo lo abbia come priorità. io stesso aderisco alla campagna Mettiamoci in Gioco, che ha fatto un lavoro enorme sulla sensibilizzazione della classe politica, su chi effettivamente ha voglia di ribocarsi le maniche su questo versante, e credo che effettivamente le condizioni potenzialmente ci sono per avviare, almeno nell'intenzione, spero anche nei fatti, una vera politica di gioco responsabile, che è quella che domina in tutti i paesi evoluti. Grazie.